Al telefono con il primo cittadino di Parra, Danilo Cominelli, entriamo nel merito della vicenda Acquisto Tele Belvedere. Cominelli, cosa ci può dire? Buongiorno a tutti. Le informazioni che posso offrire sono quelle che ho già più volte palesato. Una trattativa che sembra ormai addirittura d'arrivo da quello che mi è stato detto e sono stato informato anche io non ufficialmente. Un gruppo di imprenditori ha colto l'occasione di fare un'offerta economica all'attuale proprietario del Belvedere perché avevano probabilmente anche nel passato un'idea di realizzare qualcosa di diverso. Colgono l'occasione probabilmente di offrire una somma considerevole per cercare di rilevare questa struttura e per poi riadattarla. Un riadattamento che anche lì una notizia che sta girando per il paese deve andare nel senso di una casa di riposo. Non nascondo che se fosse così l'amministrazione comunale sarebbe anche contenta della decisione. Parre però è anche un paese turistico e quindi il venir meno di una struttura alberghiera non è presa con entusiasmo. Sappiamo quindi che sul nostro territorio verrà a mancare quindi una struttura di ricettività che per Parre era fondamentale. La scelta però di partire con un cambio di destinazione d'uso non è ancora stata ufficializzata. Quindi aspettiamo di avere un incontro ufficiale con questa accordata.